Oggi in questo video parleremo di una cosa molto diversa ovvero parleremo di questo youtuber di 700.000 iscritti che si chiama Bigurious perché parleremo di questo ecco perché bene come avete già visto dai commenti sembra che Bigurious sia copiato il video da un certo Simon ovvero un canale del 30.000 iscritti che sul suo canale tratta top a tema horror anche se un canale molto piccolo vi sembrerà strano ma la media del visual è tra i 300 milioni di visual e diamo un'occhiata ai due video non riusciremo a distinguere perché sono uguali ma se volete vedere chi è il proprietario dovete vedere la data del video e il video di Simon è stato pubblicato il primo maggio invece quello di Bigurious il 4 maggio questo video non è contro Bigurious ma serve a vedere che non solo i grandi youtuber fanno video di qualità ma anche i più piccoli che a volte sono migliori bene il nostro video finisce qua e noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao